Buona visione Ci sei riuscito? Sì Madre Ezio, ma dove sei stato? Non volevano lasciarci andare e nostra madre... Oh, non ha detto una sola parola da quando abbiamo lasciato casa Nostro padre dovrà sistemare tutto Ma lui dov'è? E Federico? E... Petruccio? È successa una... disgrazia Che cosa vuoi dire? No, è impossibile Claudia No, 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 no Ho fatto tutto il possibile, piccina Ascolta, ciò che più conta adesso è andare tutti in un posto sicuro Ma per fare questo ho bisogno che tu resti lucida Ci siamo capiti? Bene Ti spiace, Padre, a nostra madre Allora siamo pronti Grazie di nuovo Di tutto Sta in guardia, Ezio Sii cauto La strada davanti a voi è molto lunga Si va La sua mano il nemico uccide Non ci puoi stare qui Arriva un uomo potente Che difende la povera gente Le fanciulle lo amano E le sue labbra bravano Seguitemi Qui, avanti Arrivederci Arrivederci Per ora Abbiamo le mie State vicino Dietro di me Come è potuto accadere proprio a noi? Non lo so Faremo mai ritorno? Non lo so Con me Che accadrà alla nostra casa? Non lo so Hanno Hanno avuto una degna sepoltura Sì L'hanno avuta Grazie a tutti 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 Grazie a tutti